il giudice mi sta dichiarando colpevole per cosa sta condannato a 150 anni di prigione ecco il poliziotto è abbastanza pure arrabbiato ora dovremo cercare di scappare ma perché qua c'è la mia foto è perché sei la tua ora c'è la mia guarda trovo già l'uscita ho trovato già l'uscita penso alle foto a pensare alle foto sotterranei dove andiamo c'è quel vai dritto vai dritto mamma mia che paura ragazzi non mi faceva andare ok io ci sono dicono che hanno scavato un po troppo in basso infatti me ne sono accorto no sono avanti atteso abbiamo colpito la lava è così caldo che niente due salti proprio non d'accordo eh dai aspettami oh quest'acqua così marroncina non voglio sapere cosa sia bisogna andarci aspettami va bene aspetto aspetto su però perché quest'acqua è così marroncina non voglio immaginare cosa sia livello due le prese dell'aria dai shark dai shark dove sei dove sei ecco sono pazzerà ora in mezzo alla pipista livello due aspettami ci sei ci sei no come no ecco ti andiamo aspetta no aspetta sto morto ma non è possibile ma non è possibile morire oltre non posso non posso farlo non posso scendere aspetta mi vito sì ecco mi lagga mi lagga mi lagga yes yes ecco ecco ti qui è impossibile morire oh via via giù 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 via via ma che fai no mannaggia ma mi ha staccato la testa praticamente la deveva passare l'ancio poi no oddio dove è di qua sei passato no ancora no lo faccio così faccio prima corri ok dove sei? non ti vede ancora qui oh mannaggia oh no si tubi attenzione a non cadere perché qui se caschi nell'acido poi il tuo corpo non ce la fanno più a fatti di vivere presumo di sì verde pipì io non l'ho mai visto vabbè però quell'altro è sicuro pipì e spero perché insomma quel colore così di sicuro cacca non era ecco io presumo che sia stata più quella che aspetta un'altra volta i tubi mamma mia quanto mi odio aspetta che sono un po' un po' lentino eh lentino ok ok uiii boom strano che qui si da questa altezza non si fanno male non mi dico che stai ancora là sopra ma chi? tu dove sei? ecco ti io stai così andiamo 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 dobbiamo scappare da questa prigione ok livello 3 fuori dalla cella fuori dalla cella aspetta 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 ok di qua no di qua aspetta eccomi uiii uiii guarda che questa ventola sta bloccando questo sci democratico fazzi se c'è qualcosa e possiamo ok bisogna attirare una leva oh qui suffi vai premilo allora l'ho prenduta guarda che questa ventola no ora la devi attirare mamma mia niente gioco di squadra qui ok Sono dentro ai polliciotto T'ho visto infatti Ma qua che dobbiamo fare? Ah lì sono pressante Attenzione Stanno fotografando Ok hanno fotografato solo a te Oddio Quanto è brutto sto polliciotto Ok bisogna Presumere passare da lì Questo che dice? Ah bisogna trovare Una carta Dove troviamo la carta? Ma il santo sono grossi questi Io sono proprio piccolino Ma com'è? Assicurati Assicurati Di non svegliare Quel polliciotto va giù Usa qualche scala Per entrare nelle prese d'aria Ah Il bug Il bug di questo gioco Non hanno limiti Quindi bisogna usare un attimino Un po' di Eccoci qua Che succede qui dentro? Ah si stanno ribellando Sì ma come mai Noi sono così piccoli Attenzione lì c'è il poliziotto Ah sicurezza Vedi? Dove c'è il poliziotto? Anche io che so Anche io che so Ma presumo che ci dobbiamo sbrugare Ah ma si apre Prima Della scaletta Da noi siamo entrati Aspetta Si sta chiudendo Aiuto Ok Che attrazione pavimenti laser Non possiamo lasciare scappare il prigioniero No Mi hanno visto Mi hanno visto E quindi come si fa? Eh devi saltare il laser Per un attimo ero nudo Oh ma che succede? Si è passato? Dove immagino questa checca c'è? Di sicuro che la coda non è E se ci vado sopra che succede? Oh guarda il profondo Ma sopra e sopra non succede niente Ma vero? Sì Però se ci vado io Sicuramente qualcosa succederà Vabbè non lo dico Ora sono morto 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 Aspetta Tu perché fai di testa tua? Come se non ci fosse un domani Dai dai Vabbè E' troppo difficile No E' troppo difficile Non riesco a far Yes Ecco lì Guarda sentiamo questo che dice No Vediamo le dice Va bene Non mi piace troppo come parla No non parla Eccolo La porta delle docce Era il nostro piano originale Per scappare Ma è bloccata Quindi andiamo a destra Mi fido di te Scale E' di qua Di qua non si apre Quindi presimo La scala La scale Strano che non arrivano poliziotti Oh attenzione Oh attenzione Non è che c'è Poi Le telecamere Abbassa la testa Abbassa la testa Abbassare la testa Abbassare la testa Abbassare la testa Abbassare la testa Ecco Ecco lì sotto Dove andare Madomma Questa è una cosa Che ti piace tanto a te Dove? Saltare Dai premio sto tasto Premo Aspetta Mi hai attivato No Si è fiscato Aspetta Dai aspettami Aspetta Guardami questo Sono lontano No Ti voglio vedere Da sola No Il razzo E poi Forse ci abbiamo fatta Ragazzi Forse ci abbiamo fatta Scappiamo Scappiamo Come no Sto cascato Non è possibile Ma non è possibile Non sei un fuggito Ma non mi porta Proprio nello spazio Ecco Dove siamo finiti Sulla luna Oh Che figata ragazzi Se vado qui nei crateri Non succede niente Ecco sono arrivato Anch'io Mi aspetti Sì certo che ti aspetto Eccoti Ciao Ciao Ancora Questo che dice Pure sulla luna Guarda la terra Beh sembra che ci siano schiantati sulla luna Abbiamo una bassa gravità E' vero Infatti salta di più Che figata Noi Ma qui Che succede se si va qui sul buco nero Ah ma se si va sul buco nero Non so No è qualcosa Vedi E' Quasi realistico Perché è vero Per la luna c'è poca forse Ma quanto salta Salta pure troppo Aiuto Ah no C'è della super velocità lì Ok ripetiamo Va vedi io faccio la cavia Dove c'è la super velocità Sopra Ok andiamo Mi ha fatto un po' più Ah ecco Mi ha ricominciato da qui Mi ha ricominciato Da dove ti ha ricominciato C'è la super velocità Aspetta Cavolo Uiiii Ladda Aspetta eh Dove sei Boh lì Ti da la super velocità Ti da Ah Eh qui è tosta eh Ti da la super velocità E il super salto Ma non riesco a saltare Eh infatti Io sono morto tipo Cento volte Non mi salta Perché devi saltare prima Devi saltare Non puoi saltare All'ultimo minuto Aspetta Non so capito Perché è troppo veloce Ecco Bravo Eccoti Ma non sa quanto salta Dove sei andato Da qua Oh non mi rivedo No Ah no si andò più avanti Uiiii Sono morto Uiiii 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 Ah può saltare pure prima Poi saltare Oh cavolo Oh 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 No Eh qui è tosta Eh spesso è inizio Non lo riesco a fare Cavolo Eh perché qui mo gira da pazzo Gira Ok 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 qui siamo tornati alla normalità Alla quasi normalità Beh che qui c'è il Dove sei? Dove sei? Qua Eccoti Vai Vai Sentiamo questo Guarda la base lunare Andiamo dentro Così possiamo essere Telesportati sulla terra Oh che bello Oh che bello Ok No 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 Grazie a tutti